Ciao a tutti ragazzi da TFG On Demand Allora come vedete oggi facciamo un video stupido del prova a non ridere challenge Con le battute freddure stupide Mi fai solletico? Non ho riso Praticamente abbiamo messo il microfono qua Noi ci guarderemo dicendo una battuta o una freddura stupida Alla fine chi ha riso più volte Non è che diremo una freddura o una roba Cioè noi siamo stupidi No ma direte io devo farti ridere L'obiettivo è far ridere l'avversario Però attenzione se io dico la battuta Tu non ridi e ridò Ok il punto va a te Hai capito? Alla fine vediamo chi ha riso più volte E' difficile far ridere Rinnegan ve lo assicuro Facilmente Ovviamente ci siamo segnati un po' di battute E pian piano abbiamo scelto quelle che ci hanno fatto più ridere a me E ovviamente io non so le battute che farà Rinnegan E Rinnegan non sa le battute che farò io Ma neanche io so quelle che farò io Iniziare inizio io Allora Quando desideri un caffè Poi Viene espresso? Cronaca Strage familiare Una ragazza stufa Scappa di casa I genitori sono morti di freddo Bene No no ho riso No ho riso Devi ridere subito Attenzione Devi ridere subito Un'ape che ha sempre fame E che poi mangia E un'ape di cena? Scuola elementare napoletana Cara mi hanno fatto membro Mamma ma io sono stato adottato Non ancora ma abbiamo messo un'annuncio Sai come inizia la storia di una mummia No C'era una volta Tocca a te Sai cosa fa uno sputo sulle scale? No Saliva Sai perché non riesci mai a fare una foto al mare? No perché? Perché viene mosso Tocca a te Tocca a te Tocca a te Ma non ride Rida Non ride 3 Sai cosa dice un baby vulcano? Cosa dice? Un baby vulcano No Voglio la magma Sai che è morto il cartolaio del paese? No non lo sapevo Ci ha lasciato le penne Cosa fa un canguro nero sullo sfondo bianco? Risalta Questa l'ho capita Ma non era mai fatto tanto ridere No Però l'ho capita Bravo Risalta Sai che a me piace tanto il pavimento in legno? Come mai? Perché ha il suo parquet Tocca a te Sai qual è il colmo per un sindaco? Aveva un naso fuori dal comune Ho provato a studiare per fare il metereologo Però mi hanno detto che per diventarlo ci vorrà del tempo La bambina in lacrime Un passante arriva lì e dice Cosa c'è la bambina? Mia nonna è caduta dall'ottavo piano e adesso è in cielo Minchia che rimbalzo Che cagata Questo però mi fa ridere E 4 a 0 Minchia che rimbalzo Sai che io quando vado in Cina mi perdo sempre? Non mi oriento Adesso devo far ridere Rinnegan ragazzi Ci provo Siccome Rinnegan ha finito il suo repertorio Ma io mi ritrovo da ridere da solo Proverò in queste ultime battute a farlo ridere Almeno una volta Sai perché gli squali in Cina sono cattivi? Perché nuotano nel male? Quando soffri di solitudine Pensa che le tende sono da sole Nemmeno questa Ma vuoi far ridere ragazzi? Se ti senti male Compra una telecamera Così ti riprendi Buon cazzo Che cazzo Questa è bella Quando non ci troveremo mai ad una fiera Dovete provare a fare una battuta a Rinnegan Per vedere se ride Sai cosa disse la mamma di Einstein Quando lui se ne andò per studiare in Svizzera? Non ho più il fisico Ti ha fatto ridere questa? Era simpatico Era simpatico Tocca a me Tocca a me Tocca a me di nuovo Sai perché a scuola a me Non facevano a me usare il dizionario? Perché il dizionario? Basta ragazzi Direi che può bastare così Io spero che il video vi sia piaciuto Non è molto lungo Però Aspetta Forse scafano ancora uno Aspetta Sai qual è la differenza Tra una valigia Una porta E la tua famiglia La tua La valigia si porta La porta non si valigia La mia famiglia Tutto bene grazie Che stranzato No? La famiglia tutto bene grazie Se tu compri dei gelati E tua mamma non vuole farteli mangiare Te li nasconde Sono celati? Era meglio quella di prima Era meglio quella di prima Dei denti uguali Sono identici? Sai cosa fa Una mucca d'estate al mare? No cosa fa una mucca d'estate al mare? Hai in vacanza? Io mi metto a ridere Perché a me fa ridere Sì mi fa ridere Mi riesco a dipendere Ti piace talmente Esatto Che rido da solo Ti piace così tanto Esatto Ciao a tutti E al prossimo video